la mia era una domanda sul karma sì io volevo sapere se il senso della colpa del peccato può essere in un certo senso riequilibrato dalla consapevolezza che si può appunto scoraggiare il pericolo che ritorni il boomerang del karma cioè in parole molto spicciole se uno ha sbagliato deve per forza subire le conseguenze dello sbaglio o comunque ha la possibilità di rimediare allo sbaglio e quindi di evitare che il karma si ritorna rimediare allo sbaglio è accettare la sofferenza derivata dal tuo errore allora il processo il processo della compensazione karmica non può essere evitato però la compensazione karmica ti può dannare o salvare quindi cristo ti dice porgi l'altra guancia fatti derubare anzi se ti sta dagli pure di più perché è il tuo karma quindi accettalo ma accettare il karma vuol dire santificarsi vuol dire evolversi quindi nel momento che tu accetti il karma la sofferenza karmica la trasmuti in una spinta evolutiva se non l'accetti la mantieni in una spinta involutiva dov'è che abbiamo la prova di questo come ti chiami cara? Liliana Liliana la prova di questo è che Gesù che era l'incarnazione divina si fa ammazzare fisicamente perché lui che era innocente spurga una sola parte del karma dell'umanità perché se lui non faceva questo l'umanità si sarebbe estinta già da tempo ma siccome Gesù viene soprattutto per salvare la cellula terra perché per un processo simbiotico col sole se il pianeta terra muore il sole si spegne diventa un buco nero e si fagocita mezza galassia quindi questo non era possibile per cui dio manda cristo per proteggere la sua creazione e perché la terra nella fase di maturazione raggiunta ha bisogno per sopravvivere di un numero minimo di enzimi umani che sono 7.465.006 persone quindi il numero non poteva scendere al di sotto di questo degli umani vivi nella carne quindi Gesù si porta 144.000 extraterrestri provenienti da Orione che sono gli eletti affinché quella genetica più evoluta compatibile con la terrestre procreasse e si è garantito Cristo quei 7 milioni che gli servivano per salvare il pianeta poi dice Gesù nel Vangelo di Giovanni ma tutti coloro che crederanno e faranno le opere degli eletti anche loro si salveranno quindi Gesù viene a salvare il pianeta si porta gli umani extraterrestri ma che diventano umani terrestri perché si incarnano qui così salva il pianeta ma per legge di grazia offre a tutti la redenzione ma lui sa già che molti non l'accetteranno per questo parla in parabole perché sceglie saranno i cuori a sentire non la razionalità delle menti quindi ad esempio perché tutti gli apostoli tranne Giovanni muoiono? solo Giovanni muore di vecchiaia perché tutti gli apostoli avevano tradito Gesù quando Gesù viene preso nell'orto del Gessemani scappano tutti e mentre Gesù viene processato e crocifisso erano tutti per campi a nascondersi perché avevano paura l'unico che non ha paura è Giovanni che nel Gessemani scappa infatti una guardia lo afferra alla veste in quel quadro è figurato gli rimane alla guardia la veste in mano e Giovanni scappa nudo poi si trova un vestito e torna subito da Gesù ed è Giovanni che fa la spola tra il Sinedrio e la Madonna e la accompagna Giovanni è l'unico apostolo sotto la croce e quindi lui non aveva caricato karma tutti gli altri apostoli tradendo Cristo scappando e lasciandolo solo caricano karma e l'hanno tutti pagato e vengono tutti torturati e uccisi terrificante questa cosa ma ma la che il karma non si possa completamente no ma l'uccisione degli apostoli li fa santi tu devi Liliana so che è difficile ma è lo stesso discorso che ha fatto Paolo voi ragionate sempre in termini di corpo ma voi siete lo spirito eterno quindi è lì che dovete concentrare l'attenzione non è nel corpo la causa nel corpo c'è l'effetto quindi se io vivo una sofferenza ma questa sofferenza mi eleva e io raggiungo un livello superiore di evoluzione addirittura con un mio reato meraviglioso grazie però siamo codardi tesoro questo lo devi accettare perché noi facciamo soffrire gli altri però quando il sedere sulla gratticola diventa il nostro ma il nostro karma questo Dio a noi non ci piace quindi fino a che godiamo viva Dio poi quando quando incominciamo a soffrire questo Dio non mi piace tanto ma ci sono miliardi di persone che soffrono grazie ai nostri lussi e di questo noi siamo colpevoli ci piace o meno quindi se noi non diamo la vita per Cristo noi soffriremo tanto e verremo spazzati via e ci incarneremo in popoli che verranno schiacciati da altri criminali come noi certo c'è il karma di popolo il karma di nazione e il karma di umanità quindi che venga presto il karma adesso vi racconto una cosa che è quella che ho vissuto io gli extraterrestri cercano collaboratori per affidargli una missione perché loro non possono farlo direttamente ma non può essere affidata a nessuna missione a un essere umano perché tutti siamo gravati di karma quindi loro cosa fanno? quando tu ti proponi come collaboratore loro immaginate il karma dell'umanità come un mostruoso ingranaggio fatto di piccoli ingranaggi che siamo tutti noi quindi tutta l'umanità è un ingranaggio karmico tutto collegato loro preparano un piccolo ingranaggio karmico ti estragono dal grande ingranaggio umano ti mettono lì e questo ingranaggio lo accelerano quindi nell'arco di dieci anni ti fanno spurgare tutto il tuo karma quindi per dieci anni me ne sono successe di tutti i colori schiaffi, calci, pugni, tradimenti, inganni di tutto mi è successo di tutto ma se superi questo processo di purificazione diventi atto a fare una missione ti sei liberato dal karma non hai più il volante bloccato i freni sono stati riparati puoi fare la missione e avere successo ma devi superarlo il tuo karma lo devi pagare si può pagare anche in vita si deve pagare in vita o nelle vite successive se tu ti offri a Cristo gli angeli riprogrammano il tuo karma in dieci anni te lo fanno scontare tutto grazie mille non solo fanno un'altra cosa interessante accelerano talmente la tua vita perché facciamo un esempio noi generiamo cause con queste cause determiniamo effetti ma le nostre cause sono piccole cause umane che determinano piccoli effetti umani quindi la nostra velocità evolutiva è molto lenta ma se tu ti metti nelle loro mani rinunci al tuo libero arbitrio la tua vita viene programmata da loro quindi quando riesci a superare e ci riescono in pochi quei dieci anni di calci nel sedere loro quella programmazione la mantengono quindi ogni dieci anni ti fanno fare un'incarnazione ti fanno fare dieci anni un'esperienza la portano a saturazione te la fanno chiudere poi te ne aprono un'altra la portano a saturazione quindi ogni dieci anni tu hai un'incarnazione quindi nell'arco di una sola vita umana tu puoi vivere cinque, sei, sette vite hai un'accelerazione della tua evoluzione spaventosa infatti quando rinasci sei nel regno di Dio The Bongiovanni Family la voce degli extraterrestri il sito ufficiale di Giorgio Bongiovanni documenti immagini e testimonianze su una delle storie più straordinarie di tutti i tempi l'apparizione delle stimmate e le indagini medico-scientifiche più di un miliardo di persone incontrate in tutto il mondo filmati e interviste esclusive sul fenomeno extraterrestre il testo inedito della madre di tutte le profezie un archivio completo dei messaggi dal 1990 ad oggi con dossier e ricerche su temi di estrema attualità una chiave di lettura chiara e completa sui fatti che sconvolgono il mondo una risposta per chi cerca la verità di Giorgio di Giorgio di Giorgio